un po' più lento potrebbe giocare anche meglio bene, via! Jack Lant, Strikeforce, Dunaway e Geita all'inizio della curva Diefor e Capesaro conducono davanti a Strikeforce Jack Lant, Regina Segnina Geita e Dunaway poco prima dell'ingresso passa a Strikeforce davanti a Diefor Jack Lant e Capesaro i cavalli entrano in dirittura con Strikeforce in vantaggio a centropista davanti a Jack Lant Diefor, Capesaro lungo la corda Geita e Dunaway passa a Jack Lant davanti a Strikeforce e Diefor Capesaro e Dunaway in vantaggio Jack Lant davanti a Strikeforce Diefor Diefor e Capesaro allunga Jack Lant davanti a Strikeforce e Diefor passeggiata passeggiata Grazie a tutti Grazie.